Dopo un anno e tre mesi noi non sappiamo chi si occupa di cosa nel Governo regionale. Le famose deleghe non sono un fatto formale, è un fatto sostanziale. Il Presidente Roberti, dopo due assenze in Consiglio regionale, stamane ci aspettavamo tutti, si alzasse a raccontare chi si occupa, per esempio, del servizio idrico. Un tema fondamentale che tutti i cittadini di Campobasso, ma non solo i 60 comuni, ormai stanno avvertendo con forza sulla propria pelle nel quotidiano, oppure sui temi sanitari, ci sono molte domande oggi che sono rimaste in evase. Sul Sente c'è stato un balletto fra l'assessore, sembrerebbe protempore ancora l'assessore della Lega, il Presidente Roberti, ma in generale noi poniamo un tema, l'apposto lo dirà il Consigliere Romano con una mozione formale che abbiamo tutti sottoscritto, è chi si occupa di cosa? Per capire chi è il responsabile, per capire con chi prendercela, per capire chi ringraziare, se qualcosa funziona, se per caso qualcosa funziona. Per cui ci siamo visti e obbligati a denunciare al pubblico, ai cittadini molisani, che ad oggi è un caos istituzionale totale e non c'è nemmeno il garbo, l'obbligo sarebbe, di comunicare in Consiglio questa vicenda. Massimo Romano, lei ha presentato una mozione in tal senso e in conferenza ha parlato di imbarazzo istituzionale. Sì, un'iniziativa di tutta la minoranza consigliare per rivendicare una chiarezza che dovrebbe essere una precondizione per ogni tipo di ragionamento, invece qui in Molise le cose vanno al contrario. Mi chiedo se per sapere chi si occupa di idrico, di sanità, di trasporti e di tutte le materie che riguardano la vita dei cittadini, non so che cos'altro dobbiamo fare, insomma, probabilmente, lo dicevamo, forse bisognerà convocare una seduta spiritica per evocare, diciamo così, chi si occupa di che cosa. Allora, a fronte di questa condizione, che in realtà è molto seria, purtroppo noi non abbiamo strumenti e se oggi addirittura siamo costretti ad assistere passivamente alla sospensione dei lavori, perché la Giunta regionale non sa chi deve rispondere rispetto ad un tema che riguarda i servizi sanitari, io penso che siamo realmente all'anno zero. Quindi, di fronte a questo stato di cose, che poi riflette una vera confusione sul piano istituzionale e lo vediamo, purtroppo, tutti i giorni su tutti i settori più delicati, a noi non rimane che denunciare all'opinione pubblica questo stato di cose affinché ciascuno possa farsi un'idea del perché le cose in Molise non vanno bene. Noi le idee ce le abbiamo molto chiare e oggi lo rappresentiamo ancora una volta agli organi di informazione e quindi ai cittadini.